Radio Roma Capitale informazioni sulla città sono con voi Katia e Simonetta di Roma Capitale fino al 16 marzo sono aperte le iscrizioni alla scuola comunale dell'infanzia per l'anno scolastico 2015-2016 possono essere iscritti bambini residenti in città che il 31 dicembre 2015 avranno tre anni o che non ne abbiano superati i sei le domande dovranno essere presentate solo online dal portale di Roma Capitale disponibili sul sito di Roma Capitale i moduli per iscriversi nel registro capitolino delle unioni civili che sarà predisposto negli uffici anagrafici ai primi di marzo le domande si possono consegnare via internet o all'anagrafe che provvederà ad accertare i requisiti richiesti e poi continua fino a domani all'auditorium equilibrio festival della nuova danza la rassegna ospita artisti internazionali che si muovono nei territori tra danza e teatro come sempre 060606 o cliccate su comune punto roma.